Ciao a tutti, ecco qua i 5 segreti della legge di attrazione, della vera legge di attrazione. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarnasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminar da vivo abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso veniamo ai 5 segreti della legge di attrazione. Quali sono questi 5 segreti della legge di attrazione? Beh, sono segreti direi molto importanti che possono svilupparsi nel modo giusto. Intanto, prima cosa, questo non è un segreto, ma il suo segreto lo dirò, le cazzate che ci sono scritte su The Secret sono cazzate appunto. Cioè nel senso che non basta, perché gli sfigati credono che basta essere lì e pensare Ah, voglio che scenda, voglio che arrivi questo, che arrivi il Principe Azzurro, Principe Azzurro, Principe Azzurro e ti arriva soltanto. Se stai con la bocca aperta ti può arrivare, che ne so, la merda di un piccione in bocca direttamente, non lo so. Ma sicuramente non ti arriva il Principe Azzurro. Quindi, diciamo che l'unico merito, secondo me, che ha avuto The Secret, il libro sulla legge di attrazione, è quello di aver diffuso questo concetto, che peraltro è un concetto molto antico. Già si trovano situazioni di questo genere nel buddismo, quindi non è che è qualcosa di così nuovo, così particolare. Ma quindi il presupposto di fondo è che legge attrazione così come ti è stata presentata, non funziona! È inutile, non c'è... Purtroppo viviamo in un mondo dove vogliamo la pillola della felicità. Ecco, questo è quello che le persone vogliono, vogliono la pillola della felicità. Ma le persone che vogliono la pillola della felicità sono gli sfigati, che sperano, diciamo, di poter campare con il lotto, con il superna lotto. Sono quelli che sperano, si mettono lì, fanno tutti i riti scaramantici per poter vincere alla roulette, per poter vincere al lotto, per poter vincere a qualche parte. Invece faranno la fine dei morti di fame e li vedremo alla Caritas andare a prendersi un tozzo di pane, raffermo, per campare. Perché non è così che, cioè... Allora, il concetto di fondo in generale è che tutte le persone che hanno avuto successo, successo vero. Poi c'è anche quello nel mondo che ha vinto al superna lotto. Per carità, c'è anche. Ma quello sarà un successo farlocco, un successo che o è già uno che ha una mentalità adeguata o è uno che non ha una mentalità adeguata. Da un punto di vista materiale c'è un proverbio molto interessante che dice Piove sul bagnato. E allora, che vuol dire che chi è ricco sarà ancora più ricco, se parliamo di cose materiali. Ma per fare un esempio, allora vuol dire che se piove sul bagnato, devi iniziare a bagnare! E non devi lamentarti, se vuoi che piova! E lo stesso discorso lo diceva pure Gesù, che era, come dire, duemila anni fa, più di duemila anni fa, diceva a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto, quel poco che ha. E questo è un po' il concetto di fondo della legge d'attrazione. Se tu vuoi ottenere, devi avere. Devi avere una mentalità giusta, devi avere che cosa? Ecco, qui viene il primo segreto della legge d'attrazione. Non basta avere un sogno, diciamo, che poi spesso diventa un bisogno. Devi, come diceva Walt Disney, che differenza c'è tra un sogno e un bisogno? Beh, il sogno, tra un sogno, scusate, tra un sogno e un obiettivo. E che l'obiettivo ha una pianificazione, cioè ha delle date, ha un tempo, ha delle azioni da fare. E tu devi avere degli obiettivi, non devi avere dei sogni. Cioè, il sogno va bene come idea iniziale, ma poi se vuoi attraere qualcosa, devi realizzare un obiettivo, cioè mettere dei tempi, una linea del tempo. Perché a noi, purtroppo, che ci piace o che non ci piaccia, il tempo non esiste, secondo me, così come lo immaginiamo noi. Ma siamo soggetti, diciamo, a dei cambiamenti inevitabili e questi cambiamenti portano ad andare, noi siamo costretti ad andare nel senso del decadimento entropico, cioè dell'aumento dell'entropia. Quindi siamo destinati ad andare verso l'invecchiamento, la decomposizione, la morte. Quindi, se in questa forma, diciamo, che cambia continuamente, vuoi ottenere qualche risultato, devi necessariamente realizzare un obiettivo e quindi mettere dei dati e delle azioni. Questo è fondamentale. E il secondo segreto è che non serve. Quindi una volta che è definito, il secondo segreto è una volta che è definito un obiettivo, cioè un sogno con dei tempi e delle azioni. Devi fare le azioni. La legge di attrazione, azione. Attra, attr, azione. Devi fare azione. L'azione sta dappertutto. Attra, azione. Motiv, azione. Sono tutte cose che prevedono che fai. Che fai! Non che stai lì a sperare che facciano gli altri le cose al tuo posto. Non a sperare che, che ne so, arrivino gli extraterrestri e ti tolgano fuori dei guai. Dipende tutto da te. Se non realizzi quello che vuoi, di pure mea colpa. Perché è così. Cioè, e quelli che danno sempre, dico, ah, è stata la congiunzione negativa tra Saturno e Giove. Ma sei un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Non c'è nessuna congiunzione negativa. Cioè, la congiunzione negativa ci può essere, ma c'è per tutti. Tu devi agire. Certo, puoi avere del karma, puoi avere del karma negativo, ma devi agire. Karma è significazione, appunto. Quindi, agisci. La regola numero tre è che devi, il segreto numero tre è che devi, come dire, osservare il feedback e cambiare. Non devi essere statico. Cioè, purtroppo crediamo che la coerenza sia una qualità. La coerenza non è una qualità. La coerenza è un'idiozia. Cioè, essere coerenti con le azioni che fai. Le azioni devono essere coerenti con l'obiettivo. Tu devi agire in funzione dell'obiettivo che ti sei dato. Non agire in funzione dei cazzi tuoi o agire perché ti piace così. Eh, se no, non ottene i risultati. È come quello che sta cercando. Lo vede, uno vede che uno guarda, cerca sotto un lampione e dice, cosa sta cercando? Ci fa, ho perso le chiavi. Ci fa, ma l'ha persa qua? Ci fa, no, l'ho persa là. Però cerco qua perché qua c'è luce, non si vede niente. E allora, brutto, deficiente che non sei altro. Lo vuoi capire o no? che devi, vuoi dire, essere flessibile. Non puoi continuare a fare sempre queste cose e sperare di ottenere risultati diversi. Devi agire. Agire in modo flessibile. Cioè, agire in modo tale da poter trasformare le azioni che tu fai è andare in una direzione, nella direzione giusta. Il segreto numero quattro è che questo obiettivo devi formularlo bene perché non devi dare degli obiettivi irraggiungibili, diciamo così, se no non c'è una direzione che tenga. Per quanto io possa reputarmi un seduttore, per quanto io possa reputarmi uno che ci sa fare con le donne, per quanto io possa anche reputarmi uno che possa anche piacere alle donne, non so per quale motivo, però, detto questo, per quanto io conosca le tecniche di seduzione, ne abbia anche inventate diverse tecniche di seduzione, sono consapevole del fatto che se volessi sedurre Kate Middleton, la moglie del principe William, avrei difficoltà, avrei difficoltà. Non so perché, ma cosa mi dici qui? Non mi ci metto neanche nell'impresa. Beh, già avrei solo difficoltà a entrare in contatto e conoscere, diciamo così, ma al di là di quello, anche aggirando questa barriera, ma non perché dice, eh vabbè, ma allora tu vuol dire che non... No, cioè perché gli obiettivi devono anche essere realisti, devono essere, come dire, smart, come dico io, specifici, misurabili, accessibili, realistici e temporalmente collocati. Dobbiamo, diciamo, fare un passo alla volta. Non dobbiamo... Se tu non hai mai scalato neanche una montagnetta, eh beh, insomma, datti l'obiettivo di scalare l'Everest come prima esperienza è da coglione, no? Perché rischieresti di fare una brutta fine. Datti la prima montagnetta, non so, scalare il Monviso, te, perché già un qualcosa nel passaggio più semplice, però, eh, quindi questo è, no? Quindi è molto importante questo. E il... Il segreto numero cinque è che devi focalizzarti tutto su quella situazione lì e saper cogliere tutte le opportunità che la vita ti presenta. Quindi devi essere, come diceva il buon Steve Jobs, stay angry, stay foolish. Devi essere affamato, devi essere focalizzato su quello, devi essere un po' pazzo, cogliere tutte le opportunità, anche quelle... lavorare anche con la fantasia, lavorare anche con la creatività, ma devi essere concentrato. Eh, quello è... Devi essere affamato, devi avere voglia. Eh, queste sono... Se vedrai che se fai queste cinque cose, la legge attrazione si manifesta e potrai ottenere quello che vuoi. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base, collezione mirata, abbonamento top, collezione mirata, video registrazione, seminar dal vivo, abbonamento Master Consulting con il più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.